Non sarà ancora un ritorno alla normalità, ma ci assomiglia molto. Dal lunedì 11 ottobre non esiste più l'obbligo di distanziamento in cinema, teatri e musei, che possono quindi tornare al 100% delle loro capienze. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri giovedì sera, definendo nuovi limiti di capienza per il settore della cultura, dello sport e dell'intrattenimento, che superano le indicazioni che erano state date dal Comitato Tecnico Scientifico. In tutti i contesti vale sempre l'obbligo di esibire il Green Pass e usare la mascherina. Teatri, cinema e sale e concerto, dove si assiste da seduti, tornano al 100% anche al chiuso. Nei musei non c'è più l'obbligo della distanza personale di un metro. Per lo sport, i luoghi al chiuso avranno capienza al 65%, quelli all'aperto, come gli stadi, al 75%. Riaprono anche le discoteche, prevista capienza al 50% al chiuso e la possibilità di togliere la mascherina solamente quando si balla. Provvedimenti che danno molto attesi da chi lavora in questi settori. Siamo felici che venga confermata la sicurezza delle sale e il fatto che non sia mai successo nulla. Credo sia comunque opportuno, laddove non sono necessari più di tanto il 100% dei posti in sala, comunque mantenere una certa prudenza. I gestori delle sale cinematografiche sperano sia la ripartenza anche dal punto di vista degli introiti, in concomitanza con l'uscita di film di grande richiamo. Provvedimento positivo, commenta Massimo Colombi del Cinema Mignon di Chiavari, e aggiunge, speriamo che dia fiducia a molte persone ancora attitubanti di venire nelle sale. Il decreto prevede anche un inaspiramento delle sanzioni, nel caso in cui non vengano rispettati i registori nuovi limiti percentuali delle presenze rispetto alla capienza delle strutture. A partire dalla seconda violazione commessa, in giornata diversa, si applica la chiusura da 1 a 10 giorni.